Ho fatto una rinetta per vedere che ho a fare. Ecco, ecco. Capito? A differenza delle altre che ho a casa. Perché non è convinto che questa sia una... Tipo diversa, è un po' particolare. Ed ecco arrivare il giovedì della Fiera Franca, dove, come da radici secolari, gli allevatori portano le loro bestie in città per mostrarle ai compratori, concludere un affare, tessere rapporti di lunga durata con i commercianti, contadini. O meglio, questa era la Fiera Franca prima che il mondo cambiasse, tutti si velocizzassero e il mercato assumesse contorni ben differenti. Oggi la Fiera resta legata a questa tradizione solo in minima parte, ma l'occasione di incontro, quel desiderio, bisogno, ancestrale di ritrovarsi al di fuori delle piazze virtuali, fa sì che la Fiera continui ad esistere, al di là della logica. Questo è Pippo, è un puleto di due anni che l'abbiamo portato giù e viene da lontano, siamo venuti da Ferrara qua per fare il mercato. Ecco, ancora ha senso una Fiera Franca, un mercato di bestiame come erano decenni fa? O è solo un modo per stare assieme? Questo avvenire qua a questo mercato è una cosa, un senso, perché è una cosa che si fa tutti gli anni, che già il nostro papà dieci anni fa, venti anni fa, aveva sempre tante mestie qua, veniva sempre giù da Bolzano apposta, però è una cosa, una usanza, che non la vogliamo perdere, anche per il merito del papà che è anche morto, otto anni fa, perciò veniamo tutti gli anni qua a fare la Fiera con qualche animale. E come ogni occasione che guardi alle radici e al contado, non mancano i personaggi più diversi e la manifestazione di vicinanza uomo-animale che risale all'inizio della civiltà. È un animale semplice, però non è facile trovare un animale così di carattere buono, mansueto, è una cosa grande. Ecco, senta, per lei è praticamente quasi un animale da compagnia? Siamo come fosse mia figlia, anche di più, perché i bassanesi qui mi conoscono e sono un appassionato di tutti gli animali e dopo di lei, però questo qua è un animale che ha un dono particolare. L'interesse dei bambini per gli animali, in età pre-smartphone, segnala che questo istinto sia molto forte nel rapporto uomo-animale così tenacemente coltivato nei millenni. E nel nome della passione per la terra e l'allevamento, queste fiere sono sempre un'occasione per fare dei bilanci. Non è difficile, soprattutto per me, dal punto di vista delle mancanze mie degli animali in Malga, però sì, questo mi sembra di capire che questo è il presente e il futuro. Ecco il futuro perché non ci sono risposte sulle predazioni. Sì, esatto, non c'è risposta, quindi ne prendiamo atto e testa alta e lavorare.